sì Sonia fece la prima mossa non ci fu niente in essa e di apertamente erotico solo una muta dichiarazione che le piacevo che aveva apprezzato la serata insieme ed era intenzionata a rivedermi ma quel gesto significava tanto e mi rese così felice che per poco non caddi come un sacco di patate poi la porta darsi la buonanotte sulla porta classica scena di ogni corteggiamento agli inizi baciarla o non baciarla un cenno del capo o una stretta di mano sfiorarle la guancia con le dita stringerla in un rapido abbraccio tante possibilità in così poco tempo per scegliere ma come capire i desideri di un'altra persona come entrare nei pensieri di qualcuno che si conosce appena non volevo spaventarla precipitando le cose ma neanche farle credere che fossi un timidone che non sa ciò che vuole la via di mezzo dunque che improvvisai come segue le misi le mani sulle spalle e chinai in avanti e in basso in basso perché era più piccola di me e premetti le labbra sulle sue con una certa energia niente lingua eh niente abbracci polipeschi ma un bello sbaciucchio deciso lo stesso sentì un gorgoglio attutito nella gola di Sonia qualcosa che somigliava a una risata indietreggiai vidi che stava sorridendo e l'abbracciai un attimo dopo le sue braccia erano attorno a me e allora mi tuffai in un vero bacio un bacio alla francese un bacio alla francese con la ragazza francese che da un momento all'altro rimase l'unica persona importante solo uno ma lungo e poi non volendo abusare della mia fortuna le dissi buonanotte e andai verso la scala pa mal mon ami un bacio per i secoli ora mi serve una lezione di sociologia stiamo parlando del 55 nonno e in base a tutto quello che ho sentito e letto gli anni 50 non furono il periodo migliore per i giovani intendo dire per i giovani il sesso oggi la maggior parte dei ragazzi comincia a scopare nell'adolescenza arrivati a 20 anni sono dei professionisti dunque allora tu a 20 anni il tuo primo appuntamento con Sonia appena terminato in un bacio triunfale sbavante siete chiaramente in bollore l'uno per l'altra ma la dottrina dominante del periodo dice niente rapporti prematrimoniali almeno se sei una ragazza e non vi sposaste fino al 1957 non verrai a dirmi che vi siete trattenuti per due anni beh no ma che meno male l'arrappamento è una costante umana il motore che fa girare il mondo e anche allora nei tempi bui del medio novecento gli studenti cara scopavano come coniglietti che linguaggio nonnino pensavo che avresti apprezzato infatti apprezzo d'altronde non fingerò che non ci fosse un mucchio di ragazze fedeli al mito della sposa vergine per lo più erano ragazze borghesi le cosiddette brave ragazze ma insomma non esageriamo eh l'ostetrica ginecologa che fece nascere tua madre nel 1960 era medico da quasi vent'anni e mentre ricuciva le pisiotomia di Sonia dopo la nascita di Miriam mi assicurò che sarebbe stato un lavoro splendido era esperta di suture spiegò perché aveva fatto tanta pratica ricucendo ragazze in vista della prima notte di nozze per far chiedere ai mariti di aver sposato una vergine le cose che non ho mai saputo quelli erano gli anni 50 sesso a go go ma la gente chiudeva gli occhi e faceva come se niente fosse almeno in america a cambiare le cose per me e per tua nonna fu il dettaglio che lei era francese il vivere francese ha innumerevoli ipocrisie ma il sesso non è fra queste Sonia tornò a Parigi a 12 anni rimase là fino a 19 la sua educazione era molto più avanzata della mia ed era pronta a fare cose che avrebbero fatto fuggire urlando dal letto la maggioranza delle ragazze americane per esempio un po' di fantasia Katia oh non pensare di scioccarmi sai ricordati che sono andata alla Sarah Lawrence per noi occidentali è la capitale del sesso credimi ne ho combinate che la metà basta il corpo ha un numero limitato di orifizi diciamo solo che li esplorammo tutti in altre parole la nonna a letto ci dava dentro parlando volgarmente si ci dava dentro era disinibita ha proprio agio col suo corpo sensibile ai moti e ai ghiribizi dei sensi ogni volta che facevamo l'amore sembrava diversa da quella precedente un giorno intenso e drammatico il giorno dopo lento e languido è sempre pieno di sorprese infinite sfumature avete convissuto prima di sposarvi no no questo era impensabile ci toccarono molti via vai furtivi e gli hotel impossibile anche se avessimo potuto permetterci lì era troppo pericoloso a new york c'era una legislazione per cui le coppie non sposate non potevano trovarsi solo insieme nella stessa stanza ogni hotel aveva un poliziotto privato lo sbirro di casa e se ti beccava finivi dentro eh che spasso come fare allora sonia da bambina aveva vissuto a princeton e aveva ancora degli amici là c'era una coppia i gontorschi non li dimenticherò mai un professore di fisica e sua moglie profughi polacchi che adoravano sovia sonia e se ne infischiavano dei costumi sessuali americani e nei fine settimana ci davano la camera degli ospiti ma scusa perché non vi siete sposati semplicemente subito ancora studenti il militare subito dopo la laurea dovevo sottopormi alla visita di leva e credevamo che sarei stato due anni sotto le armi al mio ultimo anno sonia era già una cantante professionista eh se mi avessero spedito in germania ovest o in groenlandia o in corea del sud mica potevo chiederlo di seguirmi sarebbe stato ingiusto ma poi il militare non l'hai fatto vero se ti sei sposato nel 57 mi riformarono una diagnosi che poi si rivelò errata ma non fa niente ero libero e un mese dopo ci sposammo io voglio che tu mi parli delle cose importanti com'era lei com'era essere sposato con lei eh andavate d'accordo avete mai litigato sai le componenti strutturali non solo qualche dato accessorio com'era sonia cosa scoprì di lei dopo che ci sposammo che prima non sapevo contraddizioni complessità un buio che si rivelò lentamente col tempo e mi portò a riconsiderare chi fosse al katia io l'amavo follemente questo devi capirlo e non la critico per essere quella che era solo che quando la conobbi meglio compresi quanto dolore portava dentro di sé sotto molti aspetti tua nonna era una persona eccezionale tenera dolce fedele indulgente piena di spirito con una straordinaria capacità di amore ma ogni tanto scivolava via a volte nel bel mezzo di una conversazione cominciava a fissare il vuoto con quegli occhi sognanti e era come se non mi conoscesse più all'inizio credevo che fosse concentrata in qualche pensiero profondo o che ricordasse qualcosa che l'era successo ma quando infine le chiesi cosa le passava per la mente in quegli attimi mi sorrise e rispose nulla era come se tutto il suo essere si svuotasse e si staccasse da lei stessa e dal mondo tutti i suoi istinti tutti i suoi impulsi in relazione agli altri erano profondi incredibilmente profondi ma il suo rapporto con se stessa era stranamente superficiale aveva una bella intelligenza però in sostanza era incolta e faticava a concatenare i pensieri cioè non riusciva a concentrarsi su niente troppo a lungo tranne che sulla musica e che era la cosa più importante della sua vita credeva nel proprio talento ma era anche cosciente dei suoi limiti e rifiutava di affrontare brani che considerava troppo difficili perché potesse eseguirli bene io ammiravo la sua sincerità però in questo c'era anche qualcosa di triste come se si ritenesse di una categoria inferiore condannata a restare sempre un gradino o due al di sotto dei migliori abbiamo litigato sicuro che abbiamo litigato tutte le coppie litigano però nei nostri battibecchi lei non era mai né perfida né crudele per lo più devo ammetterlo le critiche che mi faceva erano centrate era una donna di casa mediocre senza alcun interesse per le cose materiali lo dico come complimento francamente a volte sì con lei mi sentivo solo solo nel mio lavoro perché passavo tutto il tempo a leggere i libri a scrivere libri scrivere di libri e lei non leggeva molto e parlava con difficoltà di quello che aveva letto ho l'impressione che ti abbia un po deluso no no non deluso niente affatto due sposi novelli che a poco a poco si adattano i rispettivi limiti alle rivelazioni dell'intimità tutto sommato fu un periodo felice per me anzi per entrambi senza lamentere le serie da parte di nessuno dei due e dove abitavate o in vari posti negli anni ma quando nacque tua madre eravamo in un appartamento di west ford street com'era da bambina facile e difficile strillava e rideva grande spasso e tremenda rompiballe beh insomma una bambina no la super bambina perché era la nostra bambina e la nostra bambina era diversa da tutte le altre bambine del mondo quanto aspettò la nonna prima di riprendere a cantare per un anno smise di viaggiare però a new york ricominciò a cantare quando miriam aveva solo tre mesi lo sai che è stata una bravissima mamma tua madre te l'aveva ripetuto un centinaio di volte ma per lei c'era anche il suo lavoro era nata per quello io non mi sarei mai sognato di trattenerla però lei ebbe i suoi dubbi soprattutto all'inizio un giorno quando miriam aveva avuto sei mesi entra in camera e trovai sonia inginnocchiata accanto al letto con le mani giunte e la testa sollevata mormorava tra sé in francese lo sapevo ormai abbastanza bene e capì tutto quello che diceva cosa tai con sorpresa che stava pregando buon dio dammi un segno dimmi che cosa devo fare con la mia piccolina buon dio riempi il vuoto dentro di me insegnami ad amare a essere paziente a darmi agli altri fu come se si fosse aperta una porta e io stessi guardando una sonia nuova una persona diversa da quella che avevo conosciuto negli ultimi cinque anni quando si accorse della mia presenza si voltò e mi fece un sorriso imbarazzato mi spiace disse non volevo che lo sapessi mi avvicinai e mi sedete sul letto non c'è bisogno di scusarti le dissi sono soltanto un po perplesso quindi parlamo a lungo almeno un'ora seduti fianco a fianco sul letto discutendo i misteri della sua anima sonia mi raccontò che era cominciato verso la fine della gravidanza a metà del settimo mese un pomeriggio mentre rincasava stava camminando per la strada quando era stata pervasa da un improvviso sentimento di gioia una gioia inspiegabile e travolgente sembrava che l'intero universo stesse scorrendo nel suo corpo mi disse e in quel momento aveva capito che tutto era legato a tutto il resto ogni uomo nel mondo era legato a tutti gli altri e questa forza che unisce questo potere che tiene tutti insieme tutto era dio era l'unica parola che le veniva in mente dio non un dio ebreo o cristiano non il dio di una religione ma dio come presenza che anima tutta la vita poi aveva cominciato a parlargli mi spiegò convinta che potesse sentire ciò che lei diceva e quei monologhi quelle preghiere quelle suppliche comunque si volessero chiamare la consolavano sempre la rimettevano sempre in pace con se stessa durava ormai da mesi ma non aveva voluto parlarne per paura che la giudicassi una sciocca io ero tanto più intelligente di lei così superiore nelle cose intellettuali parole sue non mie e temeva che se mi avesse detto di aver scoperto dio io scopiassi a ridere per la sua ignoranza non risi per quanto sia un pagano non risi affatto sonia aveva il suo modo di pensare e il suo modo di fare le cose e io chiedo per ridere di lei l'ho conosciuta per tutta la mia vita ma non mi ha mai parlato di dio neanche una volta perché poi smise di credere quando il nostro matrimonio fallì senti che dio l'aveva abbandonata povera nonna sì povera nonna io ho una teoria sul vostro matrimonio la mamma e io ne abbiamo parlato e lei in linea di massimo è d'accordo con me ma mi serve una conferma dalla viva voce del protagonista cioè tu cosa risponderesti se dicessi tu e la nonna avete divorziato per colpa della sua carriera la mia risposta sarebbe assurdo sì d'accordo non per la carriera in sé ma perché era sempre il viaggio beh qui direi fuochino però solo come causa in diretta ecco un fattore secondario la mamma dice che lei non sopportava quando la nonna andava in tournée entrava in crisi piangeva gridava la sopplicava di non andare scene isteriche angoscia allo stato puro separazione dopo separazione ma sì è capitato un paio di volte ma io non non ingigantirei la portata del caso quando miriam era molto piccola diciamo dagli 1 ai 6 anni sonia non si assentò mai per più di una settimana mia madre si trasferiva da noi per accudire la bambina tutto filava abbastanza liscio la tua bisnon era una maga coi bambini piccoli adorava miriam che era la sua unica nipote e miriam non vedeva l'ora di trovarsi con lei quando sonia andava via miriam non si aggirava col broncio come un oliver twist negletto e abbandonato per lo più stava benissimo e tu invece me ne feci una ragione questa mi sembra una risposta evasiva ci furono vari periodi varie fasi ognuna ebbe un suo tessuto all'inizio sonia era relativamente sconosciuta aveva cantato un po a new york prima che traslocassimo a parigi ma in francia fu costretta a ricominciare da capo e poi quando sembrava sulla rampa di lancio tornamo in america e dovette ripartire di nuovo ma infine tutto si svolse a suo favore perché era nota sia qui sia in europa però impiegò molto tempo per farsi una reputazione la svolta fu nel 67 o 68 quando firmò il contratto per incidere quei dischi con la non esuch ma prima non si assentava molto spesso io ero diviso in due da una parte ero felice per lei ogni volta che la scritturavano per esibirsi in una città nuova dall'altra proprio come tua madre soffrivo quando la vedevo partire l'unico modo era farsene una ragione questo non è essere evasivi è la realtà le eri fedele assolutamente e quando hai cominciato a vacillare probabilmente la parola giusta è sbandare o cadere ha una connotazione spirituale che mi sembra appropriata d'accordo a cadere verso il 70 credo ma non ci fu proprio niente di spirituale sai fu tutta una questione di sesso puro e semplice sesso bene l'estate sonia partì in tournée per tre mesi in europa con tua madre fra l'altro e io mi ritrovai da solo ad appena 35 anni con gli ormoni ruggenti a tutto spiano senza una donna a new york lavoravo sodo tutti i giorni ma le notti erano vuote incolori stagnanti cominciai a bazzicare un gruppo di giornalisti sportivi per lo più forti bevitori a giocare a poker fino alle tre del mattino a frequentare i bar non perché mi piacessero particolarmente ma per non annoiarmi o perché dopo essere stato solo tutto il giorno volevo avere un po di compagnia e una sera dopo l'ennesima bevuta al bar stavo tornando a casa da midtown verso upper west side quando notai una prostituta sotto un portone una ragazza bellissima per la verità e io ero abbastanza ubriaco ad accettare la sua offerta di divertirmi un po ti dà fastidio quello che sto dicendo un pochino beh io non intendevo raccontartelo nei dettagli solo per sommi capi fa niente è colpa mia sono io che ho voluto che questa fosse la notte della verità a castello di isperazione